Evitate il gas, andate alla zona sicura Nemico in discesa nell'area opere, fuoco autorizzato sui bersagli Autorizzare ricognizioni Qui Jaguar presenta Attenzione, UAV in rientro portato per fare rifornimento Team nemico mi sta fraccando, occhi aperti Intergassi in arrivo Intergassi in arrivo Intergassi in arrivo Intergassi in arrivo UAV, nemico in volo Intergassi in arrivo Intergassi in arrivo Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.